Sono Lazzarini Michele, sono nato a Crusone, in un paese della Bergamasca. Lavoro al Sant'Ubertus, ristorante di Norman Inderkopfler. Ormai da sette anni sono l'head chef di cucina. Con lui portiamo avanti una filosofia di cook the mountain, quindi filosofia legata strettamente alla cucina di montagna. Valorizziamo i prodotti di tutte le albi e facciamo una ricerca soprattutto su tutto quello che è il prodotto della montagna. Da cinque anni abbiamo una rete di fornitori che varia quasi da 35-40 persone che lavorano a stretto contatto per noi. Quindi è una filiera veramente importante che ci permette di conoscere da dove arriva il prodotto, come lavorarlo perché tante volte noi ci confrontiamo con questi fornitori per far sì che tutte e due capiscano il lavoro che c'è dietro. Oggi abbiamo proposto un menù di sei portate legato a quello che portiamo avanti di cucina di montagna. Quindi abbiamo proposto dei piccoli assaggi e tre piatti che sono il segno al dish dell'Ubertus, che è un'animella, la trotta, la mugnaia e uno zotto alle erbe di montagna. È stata un'esperienza fantastica soprattutto perché è la mia prima volta in Puglia e ho scoperto e sto scoprendo veramente un territorio ricco di prodotti, ricco di potenza culinaria.